Adesso andiamo a fare un po' di sterrati con il signor Ruggeri. Ebbè ecco! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Adesso c'è un altro single trek indiceso. Fa la curva così e scende sotto queste miniere qua. Allora qua c'è questo single trek. Ma sei qua? Stai in piedi? Stai col culo all'impietro e direzioni la traiettoria. Allora qua! Allora qua! Ecco! Ecco! Vai! Tagliela! Vai! 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 più giro a destra, vai in casa. Leo si prepara al suo primo fuori traccia, vai vai! Eccolo qua, prima pietra. Prendiamo anche noi. Seguiamo il sentiero che ha scelto Leo. Speriamo sia buono. Vai, vai dritto! Vai, fai tu! Vai! Elli! C'è qualche insidia! Su, su! Aspetto di costeggiare La terra Esatto Sì va bene qua Vai giù piano piano Ehi a piano piano Poi ci sono pietre smosse Quindi devi stare attento Ad andare piano Metti la prima E frena poco a poco Pietre smosse in discesa Vai non ti fanno niente Vai piano 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 Non ti fa niente Hai visto? Piano 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 piano